Questa è la mia scuola elementare. Il primo ricordo che ho di questa piazza è dell'inverno del 1985, durante la grande nevicata. Proprio in quei giorni la Commissione Bozzi, la prima commissione parlamentare di discussione delle riforme istituzionali, concludeva i suoi lavori presentando una proposta di riforma del bicameralismo paritario. Io domenica verrò qui per votare e per concludere quel processo di riforma iniziato più di 30 anni fa. Noi in Italia abbiamo un sistema istituzionale che confonde le responsabilità tra Camera e Senato, tra Stato e Regioni. Non si capisce chi decide, ma soprattutto chi non decide e perché. Io verrò qui a votare sì, ma in questi giorni serve una mobilitazione straordinaria per convincere gli ultimi indecisi. Ma soprattutto serve domenica il voto di tutti e quindi buon sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.